Una nuova indagine di essere animali ha portato alla scoperta di un allevamento di maiali nell'Odigiano inserito nella filiera dei prodotti DOP in cui sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie precarie e il mancato rispetto delle prescrizioni sul benessere animale. Secondo Essere Animali non si tratta di un caso isolato ma dell'ennesima prova di un sistema che è essenzialmente basato sullo sfruttamento animale e pertanto non rientra nei parametri anche minimi imposti a livello normativo. E l'ennesima denuncia di essere animali, di episodi di maltrattamento e di violazione sistematica delle norme sul benessere animale all'interno di un allevamento intensivo. Questo è un allevamento di suini del circuito DOP che si trova in provincia di Lodi. L'associazione tramite i propri investigatori ha documentato la presenza di numerosi cadaveri quindi vi era un problema strutturale evidentemente perché molti suinetti non sopravvivevano e tantissimi maiali in condizioni disperate perché con ferite, carenze igienico-sanitarie, strutture fattiscenti non idonee con angoli taglienti che potevano ferire gli animali, animali che si presentavano molto sporchi, animali con le code mozzate in violazione delle prescrizioni europee che prevedono che la coda mozzata debba essere l'extrema razio solo quando non si riesce in altro modo a evitare che i maiali sfoghino la propria aggressività colpendo, mordendo le code dei propri simili all'interno dei recinti. Ci sono anche episodi di brutali maltrattamenti, per esempio operai che sbattono violentamente i suinetti contro la parete per sopprimerli in violazione delle prescrizioni. Abbiamo segnalato alla procura e all'ATS che ha effettuato un'ispezione insieme a NAS e sono state rilevate numerose criticità, numerose violazioni di legge. La procura sta negagando per i leciti penali, l'ATS ha già emesso delle sanzioni.